Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. L'ultima volta nel D20 System, nel video di settembre, abbiamo visto le basi del movimento tattico sulla griglia di combattimento. Questa settimana invece approfondiamo e andiamo a vedere le basi del combattimento sulla griglia tattica. Prima di cominciare una piccola comunicazione di servizio. Verso fine mese ci sarà il video speciale del primo anno del canale. Non so ancora esattamente cosa farò, io alla fine mi risolvo sempre all'ultimo a fare queste cose. Però mi piacerebbe anche rispondere magari a qualche domanda da parte vostra. Quando cominciatelo molto meno, molta gente è assunita dal corso del tempo. Quindi magari c'è gente che vuol chiedermi qualcosa riguardo al canale, riguardo ai giochi, non lo so. Avete un paio di settimane per lasciare domande che vi interessano nei commenti o per suggerirmi delle idee se ne avete. Fine dell'annuncio, non perdiamo altro tempo e torniamo sulla griglia tattica. Ho iniziato lo scorso video parlando dello spazio occupato da una creatura. Adesso andiamo a introdurre la portata, cioè la sua caratteristica associata. Normalmente nei bestiari vedrete come un'unica caratteristica che si chiama spazio portata. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Ogni creatura sulla mappa tattica, oltre a occupare uno spazio, ha anche un'area intorno a se stessa all'interno del quale può attaccare i propri nemici in mischia. Questa è detta area di minaccia e il raggio per cui si estende è chiamato portata. Le creature piccole o medie hanno normalmente una portata di un metro e mezzo. Le creature grandi di tre metri e così via salire man mano che la taglia aumenta. Le creature più piccole non hanno invece portata e devono entrare nella casella occupata da un avvassario per attaccarlo in mischia. Se vi sembra strano che le creature minute e minuscole non abbiano portata, pensate a qualcuno aggredito da un gatto o da un calabrone. L'animale non starà fermo a fianco a lui, ma gli andrà addosso e gli passerà sotto le gambe mentre lo attacca. La portata però non dipende solo dalle dimensioni della creatura, ma anche dalle armi che impugna. Una creatura equipaggiata di armi lunghe, come una lancia o una labarda, avrà una portata doppia rispetto a quella normale. Quindi tre metri per una taglia piccola o media o sei metri per una taglia grande. Questa regola è stata poi cambiata nella 3.5, per cui le creature di taglia superiore alla media minacciano un'area doppia rispetto al normale, ma non minacciano l'area immediatamente adiacente a loro stesse. Per cui un troll di taglia grande armato di alabarda minaccerà un'area che va dai 4.5 ai 6 metri intorno a se stesso. La regola più importante legata alla portata sulla griglia tattica è quella dell'attacco di opportunità, che nella mia esperienza è anche una di quelle più fraintese e malinterpretate dai master e dai giocatori. Quando una creatura si trova all'interno dell'area di minaccia di un'altra creatura ed esegue un'azione che le fa abbassare la guardia, sono chiamate le azioni che generano un attacco di opportunità, l'altra creatura ha immediatamente diritto a fare contro la creatura che l'ha generato un attacco gratuito. Questo avviene al di fuori della sequenza dei round e fondamentalmente è un'interruzione. Da SRD si può eseguire un solo attacco di opportunità per round, anche se quasi tutti i sistemi di gioco hanno poi abilità speciali, talenti, caratteristiche particolari che permettono di eseguirne di più. Comunque, al di là di che talenti uno possa avere a non avere, non è mai possibile fare più di un attacco di opportunità sulla stessa creatura per la stessa specificazione. Si potrebbe fare un secondo attacco di opportunità sulla stessa creatura solo se questa facesse poi, in seguito al primo attacco, un'altra azione che generasse un altro attacco e poi una terza azione che generasse un terzo attacco e così via. Ci sono solo due tipi di azione che generano un attacco di opportunità. Uscire da una casella dentro l'area di minaccia di una creatura, non entrare, uscire dall'area di minaccia o eseguire un'azione di combattimento che genera attacchi di opportunità mentre si è dentro l'area di minaccia. Quali sono esattamente le azioni che generano un attacco di opportunità dipende dal regolamento che state utilizzando, ma in linea generale tutto quello che riguarda l'attivazione di oggetti o il lancio di incantesimi genera un attacco opportunità. In alcuni sistemi, come AD&D per esempio, l'uso di armi non da mischia in mischia genera un attacco, in altri sistemi no. Se l'area di minaccia di una creatura è più larga di una casella, abbandonare la casella di entrata per avvicinarsi alla creatura provoca attacchi di opportunità, in quanto si lascia una casella minacciata. Se le aree di minaccia di più creature si sovrappongono, ogni creatura ha delitto di eseguire il suo attacco di opportunità, anche se è stata la stessa creatura a generarli. Inoltre, se la creatura è dentro l'area di minaccia di due o più creature, potrebbe verificarsi la situazione che viene chiamata fiancheggiamento. Ora, nel D20 System si presuppone che le creature non abbiano un davanti, dietro, destra o sinistra, che i personaggi siano continuamente in movimento e si guardino intorno all'interno della loro casella. Quindi non è proprio possibile prendere qualcuno alle spalle o prendere qualcuno sul fianco, a meno che non sia una situazione di colto alla sprovvista, che abbiamo già visto nei video precedenti, se vi siete persi andate a rivedere. È indubbio però che se una sola creatura deve confrontarsi con molte creature che arrivano da lati opposti, dovrà dividere la sua attenzione sui vari avversari e le creature attaccanti ne riceveranno dei bonus. Nella fattispecie un bonus di circostanza di più due al tiro per colpire. Il fiancheggiamento si verifica quando una creatura è dentro l'area di minaccia di più di una creatura attaccante e la linea immaginaria che collega il centro di uno dei quadretti occupato da una delle creature attaccanti con il centro di uno dei quadretti di un altro attaccante interseca i due lati opposti dei quadretti occupati da quella creatura. Non si è capito niente, vero? Per farla più semplice si può dire che in questo caso la creatura è fiancheggiata. E anche in questo caso è fiancheggiata. Ma non in questo caso, perché anche se la linea attraversa lo spazio occupato dal difensore non interseca i due lati opposti della sua area. Va da sé che più le creature sono grosse, più sarà facile per loro trovare un modo di attaccare ai fianchi il nemico. E questo è uno dei motivi per cui non bisogna far arrabbiare un gruppo di giganti ubriachi, ad esempio. Per questo video è tutto. Con il prossimo video, tra un paio di settimane, andremo a chiudere l'argomento griglia tattica parlando di linea di vista e copertura. Nel frattempo però mi piacerebbe sapere se voi avete dei racconti legati al fiancheggiamento, allo schieramento, se siete mai stati presi all'imboscata e tritati perché un gruppo di piccoli goblin è arrivato ad avere tra azioni da aiutare e bonus di fianchi un tiro per colpire enorme, o se voi stessi avete sfruttato questa situazione per tirare giù un mostro altrimenti insuperabile. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like e lasciate un commento e condividete che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kai, noi ci rivediamo al prossimo video.